Ciao a tutti, sono Elle e benvenuti al mio canale. Oggi vi faccio la recensione di un romanzo rosa dal titolo La resa del duca di Evie Dunmore. Allora, non è un racconto ma una recensione perché per raccontarlo ho bisogno di fissare un giorno specifico e allora perché ve lo sto recente essendo solamente perché merita nel senso che questo è uno dei romanzi rosa più belli che abbia letto negli ultimi anni e forse è dovuto ciò in gran parte non solo al talento dell'autrice ma anche al fatto che questo sia il primo romanzo rosa che ha scritto perché si nota che è nuova al genere e fa alcune cose che altre autrici danno per scontate. Salutate la mia gatta che sta passando di qui. Cercherò di non fare molti spoiler ma qualche spoileretto lo faccio. Posso solo dirvi che questo è uno di quei romanzi in cui non conta tanto che cosa accadde perché siamo in un romanzo rosa e lo sai che alla fine i due finiranno insieme ma proprio come viene sviluppato è una di quelle storie che fa venire voglia di rileggerla infatti lo farò senza dubbio. Allora, la protagonista è una suffragetta ovvero una donna che lotta per i diritti delle altre donne nel 1879 tale Annabelle. Annabelle viene da una situazione un po' complessa dove non ha più una famiglia il padre è morto la madre non credo che non l'abbia nemmeno conosciuta il il cugino la ospita in casa sua e di fatto le fa fare lavori è una tuttofare che non viene manco pagata e è stata ammessa ad oxford perché le università iniziano ad accettare le donne ma per andare a studiare effettivamente lì doveva addirittura chiedere il permesso al cugino nonostante fosse una ragazza di 25 anni a quel tempo veniva considerata una donna già zitella usiamo questo termine che comunque è adatto per l'epoca e chi è il protagonista maschile di questa storia è il duca sebastian montgomery un uomo molto rigido che è un conservatore e i due si incontrano perché come suffragetta Annabelle lo avvicina per cercare di insomma farlo passare dalla propria parte dalla della loro causa ovvero la riforma del disegno di legge relativo alle proprietà delle donne sposate married women act l'ho letto in inglese scusate nel caso non abbia presente le traduzioni in italiano di questi termini e e quindi i due avranno modo poi di di avere molto a che fare l'uno con l'altro soprattutto quando Annabelle trova il modo di intrufolarsi un po a casa di lui l'idea e trovare informazioni sulla sua persona per convincerlo un po meglio nonostante sia proprio addirittura a momenti il leader dei conservatori e i due si trovano l'un l'altro per la reciproca intelligenza e per una intesa fisica è una delle robe più infuocate concrete vere che abbia mai visto in un romanzo rosa soprattutto perché c'è questa frustrazione continua in cui viene lasciata la lettrice e anche i due poveri protagonisti che però sa di reale insomma allora allora sto cercando di riordinare le mie idee perché ho talmente tante cose da dire questo dovete prenderlo come un segno che è proprio una storia fatta molto molto bene se avete letto janeire di charlotte bronte potrete riconoscere un'ispirazione a quella storia lì c'è senza dubbio ora non so se la tenuta del duca fosse nella brughiera però c'è questa scena in cui insomma lei sta a un certo punto in un campo al freddo e l'altro raggiunge col suo cavallo e lui sembra un po un signor rochester tanto per far capire che l'autrice lo sa magari anche quali riferimenti sta facendo nella storia per quanto non sia importante c'è uno che si chiama signor rochester per dirvi e quante altre volte abbiamo visto storie in cui abbiamo una ragazza indipendente un uomo dura dal cuore apparentemente di ghiaccio che si incontrano 40.000 nel romanzo rosa non c'è quasi nulla di nuovo infatti il motivo per cui si leggono romanzi rosa non è per la novità della trama di solito quanto per il percorso con cui i due andranno innamorarsi ecco è proprio questa la parte che funziona di più in questo libro nel senso che la danmore mostra quello che di solito altre raccontano ora a me piace parecchio la clay pass e trovo che sia una delle autrici per esempio più prolifiche del più prolifiche più costanti nello stile del panorama romanzo però quello che lei fa spesso è adagiarsi su certi schemi funzionali del romanzo e dare per scontate alcune cose perché funzionano perché le tre le rettrici hanno detto talmente tanti romans che le sanno determinati determinate logiche ecco la danmore è come se le spiegasse da capo ma soprattutto non perché le sta spiegando a noi ma perché i suoi protagonisti mentre si trovano in determinate situazioni dico ad esempio la ragazza appunto sola nel castello di questo tizio qui che a un certo punto è molto attratta da lui e considera in certi momenti di diventare addirittura la sua amante in un qualunque altro romanzo rosa ti direbbe ma non può perché va contro l'etichetta e poi perde la sua virtù oppure poi non no non si può e basta e invece vediamo appunto come tra l'altro succedeva anche a quei tempi insomma nonostante queste idee ce li abbiano in mente i personaggi cadevano lo stesso in tentazione e vediamo come annabelle si sforza tantissimo di non cedere ma in certi momenti e in questo senso è molto moderna pensa perché no perché una donna che segue i propri sentimenti ed ha senso considerato il background non vi sto dicendo alcune cose importanti su di lei perché magari è troppo spoiler però si avvicina all'amore all'amore fisico con estrema naturalezza e non si sente offesa dall'idea che ha potrei essere considerata un amante però alla fine sceglie di non farlo esattamente come le protagoniste di tutti gli altri romanzi rosa e noi sentiamo insieme a lei perché non può cadere in in una tentazione del genere o meglio perché non può cedere a un accordo del genere e capiamo anche allo stesso tempo anche qui cosa già vista rivista ma qui lo sentite ancora di più perché lui non le possa offrire niente di diverso all'inizio non concepisca neanche non è che quando lui a un certo punto propone diventiamo amanti addirittura lei si offende come è potuto no anzi nella sua testa è normale che lui pensi immediatamente a questo perché loro sono di ranghi completamente differenti appunto lui è un duca e lei è una ragazza praticamente di campagna senza nessun titolo luminiare di alcun tipo l'unica cosa che ha dalla sua è l'istruzione e lui non solo è un duca è un politico di fatto è un lobbyist in un certo senso cioè il segretario di partito perché ha colloquio spesso con la regina vittoria che viene mostrata parlare spesso in questo libro qui e e la regina siccome lui è molto influente in parlamento lo usa per fare in modo che il primo ministro che lei ha scelto di israeli personaggio realmente esistente possa vincere le elezioni e e noi vediamo e capiamo esattamente perché lui sia questo tipo di uomo rigido non solo perché appunto ci viene detto ma ci viene mostrato soprattutto ad esempio nel rapporto col fratello minore che lui considera il suo erede lui ha 35 anni quindi una decina di più della protagonista femminile e ha come erede presunto al momento un fratello minore di 19 e questa parte a me è piaciuta tantissimo perché ci fa vedere come lui è un uomo non cattivo però allo stesso tempo non li sa gestire i sentimenti delle altre persone il fratello è fuori controllo completamente e lui sta per mandarlo in marina e non capisce perché in certi momenti il fratello sembra guardarlo addirittura con odio non capisce perché il fratello lo tema non gli parli non capisce perché non comprenda questo fratello qui quanto è importante che lui diventi un uomo assennato e questo non lo comprende perché lui è diventato duca alla stessa età del fratello 18 anni quando il padre è morto affogato in una pozza d'acqua perché era troppo ubriaco il padre era uno che stava dilapidando le loro sostanze che non si curava delle responsabilità e quindi lui ha cercato di essere tutto l'inverso e adesso è ricchissimo e tutto quanto è lambara d'anna ma vediamo anche nella vita di tutti i giorni quante responsabilità questo comporta lui dorme sempre pochissimo ma perché sono i suoi ritmi naturali ma non fa altro che lavorare 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 e sì come al solito ha bisogno di qualcuna che gli sconvolgesse un attimo la vita ma resiste un sacco resiste proprio tanto e allo stesso tempo pure lei resiste da altri punti di vista e non è ecco questo ve lo posso dire perché si capisce più meno subito non è un innocente e questa è un'altra cosa che funziona molto bene all'interno del romanzo perché sono pari anche da questo punto di vista lei esperienze ne ha già avute e quindi lo capisce ancora prima che lo capisca lui che l'altro è attratto e potrebbe voler fare qualcosa ma lo sa e quindi prova a dire no in quella situazione non mi ci metto ma alla fine ci si mette comunque persone molto razionali entrambi che adulte che eppure sono attratte e irrazionalmente l'una dall'altro ho sentito descrivere questo libro con aggettivi tipo perfetto soprattutto nelle scensioni su amazon che potete vedere andando nel link che vi vi ha indicato nella descrizione ecco non è un libro perfetto è un romance che di fatto è adesso li sto facendo le pulci letteralmente perché è meglio del 99 per cento della produzione di romance che c'è in giro però paragonandolo alla letteratura più generale a un qualche problemino se sa per il 60 70 per cento del tempo anche fino a che si focalizza sulla coppia principale a una storia straordinaria non ne trovo un unico difetto più o meno dal 15 per libro circa da quando annabella va a casa del duca fino a quando se ne va o più o meno lì poi a un certo punto si vede e credo di aver intuito che sia perché come al solito hanno costrizioni di durata l'autrice fa fare un'accelerata alla storia al percorso della relazione di questi due perché in pratica doveva uscire dall'impassa a me piaceva questo soffrire loro che si ritrovavano sempre a incrociarsi e lui che diceva ok questa l'ultima volta che ci siamo visti e poi no però poi in pratica ha fatto accadere una cosa che all'improvviso gli fa cambiare idea da così a così e non è che è totalmente privo di senso però si vede che ha un'accelerazione inoltre mi dicevo prima del rapporto tra il duca e suo fratello fatto molto bene così bene che mi aspettavo che venisse trattato un po di più anche in seguito nel resto del libro mentre a un certo punto c'è un'interruzione da questo punto di vista e poi la risoluzione è più da romanzo rosa nel senso un po monista semplice e invece ci trovavo più profondità in questa relazione cui volevo anche vedere il suo sviluppo ecco invece lo sviluppo è stato interrotto perché quello che decide di fare l'autrice ad un certo punto è anche focalizzarsi sulla coppia principale e questo è il suo maggior pregio e al contempo il suo difetto perché ad un certo punto sembra l'autrice dimenticarsi anche del della dell'argomento delle suffragette devo dire che per un bel po mi stavo chiedendo ma esattamente perché la protagonista è suffragetta perché sostiene i diritti delle donne sembrava quasi solo perché non avesse non aveva altre amiche e quindi si era trovata invischiata con altre colleghe avevo questa sensazione all'inizio forse perché non è più tardi anche mentre invece lo senti di più alla fine del libro quando la protagonista torna alla sua vita di tutti i giorni vita di tutti i giorni che d'altronde è difficilissima questo sicuramente funziona cioè mettere la protagonista in una situazione di difficoltà che aiuta a empatizzare con lei serve serve parecchio e lei come vi dicevo era povera povera tanto che non faticava a mangiare faticava a nutrirsi e inoltre a un certo punto doveva pagare il cugino da qui era scappata per permetterle di studiare e doveva lavorare fare la tutor e tutto quanto solo per poter essere libera e quindi questo spiegava bene perché sentisse con forza su di sé i problemi del fatto che una donna non era libera di disporre della propria vita di ritenere delle proprietà una volta che si era sposata nel libro vengono introdotti alcuni personaggi che si capisce immediatamente che andranno a essere protagonisti degli altri libri le amiche suffragette anche loro sono piuttosto anonime molto di contorno all'inizio tanto che avevo faticato identificarle verso l'ultimo quarto del libro finalmente prendono un po più vita ed è e diventano interessanti anche se devo dire che il personaggio che ha catalizzato di più la mia attenzione è una sorta di damerino che è stato presentato in un ballo che si è tenuto nel castello del duca sapete che mi ricordava sebastian san vincent della serie wallflowers di lisa claypass cioè questo mascalzone un termine così desueto non detesto però rende l'idea quello che vede una donna e non si fa problemi a farla capire subito che vuole farse la vuole spogliarla con gli occhi e bla 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 e io all'inizio pensavo perché sta dando tanta attenzione l'autrice a questo personaggio perché l'aveva credibilmente dipinto come un villane cioè un cattivo pure un po strano perché voi immaginatevi siamo in questa epoca qui 1879 lui indossava a un ballo una specie di giacca color magenta e un orecchino addirittura quindi molto anticonvenzionale e poi si capiva però che c'era un po di profondità in questa persona quando all'improvviso diventava serio cioè perdeva la maschera di seduttore e si capiva che si poteva fare con lui un discorso serio e inoltre quando viene presentato come un eroe di guerra io pensavo un eroe di guerra questo qui bellissimo ok è un altro che farà sicuramente da protagonista in un prossimo libro ho inquadrato per esempio poco oltre uno stereotipo la protagonista del prossimo libro che è una suffragetta la suffragetta capo chiamiamola così lussi però sono ansiosa di conoscerla e leggere quello che ci sarà dopo trovate finora tradotto in italiano solo il primo libro penso proprio che stiano traducendo anche gli altri sarà una tetralogia nel senso che so che stanno già scrivendo il quarto libro su sulle amiche suffragette per ora guardarlo così la trama solamente la trama secondo libro mi interessa perché appunto è questa suffragetta capo con questo seduttore qui pareva che in realtà si conoscessero da un po fossero amici di infanzia due persone più diverse non potrebbero esserci le altre mi interessano un po meno però c'è da dire che mi interessava poco anche la trama di questo primo libro innanzitutto perché il duca come al solito cioè sembrava un luogo comune stra abusato e la suffragetta anche lì la suffragetta che andava ad oxford temevo di trovarmi davanti un libro con una protagonista un po so tutto io e invece no annabel non è per nulla così anzi è una ragazza che una donna che ama lo studio perché comunque l'è stato insegnato dal padre però usa la sua intelligenza in maniera ponderata non sta lì a dimostrare in continuazione come se fosse in lotta col mondo anche per via di della posizione in cui è stata mantenuta ha una grande mi viene sempre in inglese ha una grande forza morale una voglia di combattere col mondo ma se lo tiene dentro se lo tiene dentro per la maggior parte ed ecco è questo che il duca sebastian ngomari vede in lei e viceversa lei vede in lui forse perché da un certo punto di vista sono entrambi controllati e quindi si somigliano vi dico anche che potreste trovare o percepire dei difettucci nella primissima parte del libro perché io ne ho rilevati un paio che avevano proprio a che fare col fatto che l'autrice fosse alle prime armi nel campo dei romance perché fa due cose che all'inizio sembrano errorini da principiante ovvero innanzitutto rimarcare sottolineare il fatto che la sua protagonista è bella lì mi stava perdendo il libro un attimo ma ormai l'avevo comprato nel senso che lo fanno un sacco di storie però veniva sottolineato che annabelle era la più bella tra le soffragette a occhi verdi e questa bocca carnosa in realtà questi dettagli queste caratteristiche vengono rimarcate sottolineate in maniera curata non forzata nel resto della storia sono semplicemente parte di lei e soprattutto non servono a salvarla o a elevarla oltre quello che è ovvero una donna di campagna anzi forse le ha procurato più problemi che altro e sì il tizio come tutti gli uomini viene attirato anche da questo però alla fine si capisce che non le cederebbe assolutamente ne sarebbe così preso da lei se non fosse per la sua mente e un altro errore che aveva fatto l'autrice proprio nel presentare il duca che mi era sembrato molto banale quando annabelle lo vede fa quello che ecco succede in tanti romanzi rosa ecco un uomo che comanda la sala che ti trapassa con lo sguardo ma non si era limitata a una descrizione breve era stato lunga tanto che io pensavo lì ma scusami come fai a immaginare tutte queste cose su di lui che lo hai visto una volta non è che neanche l'hai visto in una situazione ha parlato con gli altri agito stava in piedi com'è che ti sei costruita questi castelli in area e quindi mi sembrava che stesse facendo il contrario di quello che poi effettivamente fa ovvero raccontarci dirci le cose invece di mostrarcelo effettivamente e per fortuna sono andata avanti perché dal momento in cui annabelle finisce nel castello del duca le cose migliorano esponenzialmente e ditemi un po' lo avete letto immagino di sì perché comunque è diventato rapidamente famoso la qualità viene riconosciuta e vi è piaciuto immagino di sì anche questo qualcuno ha trovato qualche qualche difetto nel comportamento della protagonista forse ma secondo me no siete ansiosi di leggere il secondo la mia idea è che se vi convince comunque questo libro da questo piccolo racconto che vi ho fatto che non è entrato poi più di tanto nei dettagli vorrei raccontarvelo passo per passo come faccio di solito magari il mercoledì ancora dopo o in seguito perché comunque ho intenzione di leggermi anche gli altri che sono inediti qui in in italia e gli altri tre fino gli altri due finora usciti e quindi potrei anticiparvi che cosa ne pensa che cosa ne penso e se sono altrettanto validi e la trama sostanzialmente prima che arrivino qui vi ringrazio di avermi seguito anche oggi mi raccomando se vi è piaciuto questo video se vi è piaciuto il consiglio soprattutto mi raccomando se non avete il libro e se non avete intenzione di andare a trovarlo in una qualche libreria che è un po difficile perché era i grandi romanzi storici editi in edicola a luglio nell'anno scorso provate a comprarlo su amazon se lo comprate dal link sottostante ho comprato un'altra qualunque cosa dal link sottostante a me arriva una piccola commissione quindi mi sostenete e vi invito anche a visitare la mia pagina facebook è la racconta scrivete nell'indirizzo è il racconta e vi trovate nella mia pagina perché lì ad esempio ho deciso di iniziare di tornare a scrivere un po gli appunti sulle cose che sto guardando in questi giorni ho guardato per esempio dopo sissi sanditon perché lo stanno dando su su tv 2000 credo e una serie britannica ispirata all'ultimo lavoro incompleto di jane austen e anche un altro drama ma comunque quando leggo qualcosa che mi piace faccio qualche appunto lo scrivo lì e così potrete anche avere un'idea eventualmente di che cosa può di che cosa mi preparo a trattare di quale libri mi preparo a leggere e poi a raccontarvi ecco per ivy danmon per esempio devo ringraziare voi perché ne avevo sentito parlare ma è stato qualcuno di voi a convincermi adesso a darle un'altra possibilità avevo voglia di un romanzo rosa e qualcuno di voi me ne ha parlato e l'ho letto ed è una delle migliori scoperte che ho fatto negli ultimi tempi va bene ops la mia cena è pronta vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo una prossima volta ciao